Quindi la sera arrivano, ci sono le banche... Un lavoro quotidiano, un impegno costante che spesso finiscono dietro le quinte perché molti non conoscono bene quali siano le realtà imprenditoriali che insistono nella cittadella industriale di Nocera Inferiore, quella di Fosso Imperatore. E allora a distanza di qualche tempo, superando diverse visioni, qualche frizione, è nata l'idea di imprese in festa per stare insieme. I rappresentanti del consorzio Le Cotoniere Coifim, che da poco, con un nuovo consiglio di amministrazione, con Alfonso Vicidomini, presidente, hanno voluto queste due giorni di festa, il 25 e il 26 settembre prossimi, con musica, comicità ed enogastronomia. Mostriamoci all'esterno, agli altri del territorio e non solo. Questo potrebbe essere uno dei sottotitoli della manifestazione, di sicuro uno dei motivi perché imprese in festa sia stato creato. Col patrocine del Comune di Nocera Inferiore viene sancita quindi questa forte collaborazione e sinergia tra Coifim e Le Cotoniere, che porterà di certo in futuro ad altri e alti traguardi. Un incontro con tutte le aziende, ho avuto da tempo da tanti imprenditori. L'ultimo evento che ricordo abbiamo fatto come festa nel Coifim nel 2004. Da allora siamo insieme parlati di realizzare un'altra festa. Oggi siamo qui a coronare questo sogno. Però per un modo del vero devo dare atto a chi ha immaginato questo evento che è Gamberdella Gaetano con Napoletano Giuseppe. Io che ho sposato a pieno perché l'idea dell'unione e dell'apertura, anche in questo periodo particolare del Covid, possa dare uno slancio per ripartire e per guardare un po' al futuro con positività. Abbiamo ideato questa manifestazione volta a far sì che le persone e la comunità di Nocella Inferiore conoscono le capacità imprenditoriali dell'area di Fosso Imperatore e quindi anche le altre persone che saranno praticamente presenti, ossia i vari fornitori, i vari clienti delle imprese, degli industriali che insistono su quest'area. E quindi noi abbiamo creato questi due giorni, diciamo, queste manifestazioni per creare una unità di intera. Assolutamente, bravo. Per portare giustamente, step dopo step, quello che noi riteniamo che l'intera area, che ha una capacità, diciamo, inespressa, fino a questo momento riesca a creare praticamente quel volano che porti praticamente a... Mi auguro di far spiccare il volo a questa realtà. Noi dobbiamo sfatare questo fatto negativo, il essere disuniti tra di noi, no? Questo evento che anche da parte mia l'ho spinto, l'ho spinto tantissimo questa manifestazione, nella festa di queste imprese, di Fosso Imperatore, perché Fosso Imperatore è considerato e mi auguro che non debba essere considerato come un pochettino il punto nero delle attività produttive, non solo per il Comune di Nocera, ma per tutto l'agro. Fosso Imperatore, questo evento dimostra che le aziende ci sanno fare, sanno stare sul territorio, danno occupazione, si impegnano e quindi, come dire, vogliamo dare visibilità a questo territorio, a questa area industriale, che è una delle aree industriali, forse insieme a quella di Sarno, una delle più belle del mezzogiorno, perché è importante anche l'ubicazione. Noi siamo a due passi dall'uscita di Nocera Pagani, ben collegato tra nord e sud, quindi quest'area vuole dire la sua. Noi di concerto con il Comune, l'amministrazione comunale, che ha dato il suo sostegno attraverso il sindaco e gli assessori competenti, vogliamo dare un contributo di visibilità, perché ci tengo a dire, parecchi di loro non sanno manco dove sta Fosso Imperatore. Fosso Imperatore non è un canale soltanto che raccoglia le acque, ma è una zona di attività produttive. I protagonisti saranno le imprese. Noi come amministrazione abbiamo accolto la richiesta che ci è pervenuta, credo, nel periodo estivo, di organizzare un evento che potesse dare lustro e importanza a quest'area. Noi abbiamo raccolto l'invito e grazie anche al finanziamento che abbiamo ottenuto dalla Regione abbiamo dato un contributo con lo spettacolo di Angelo Di Gennaro. Credo che si sia raggiunto un risultato importante, perché l'unione dei due consorzi sicuramente farà bene a quest'area e potremo continuare a lavorare così come stiamo facendo per lo sviluppo di queste imprese che danno tanti posti di lavoro e ovviamente dovremo essere bravi ad intercettare quelle che sono anche le loro richieste e fare in modo di poterli mettere in condizione di poter continuare a crescere. Noi siamo felici anche grazie al lavoro che è stato fatto in questi anni, a breve credo, che gli uffici si incontreranno con i responsabili del COIFIM per la firma della nuova convenzione che non veniva sottoscritta da anni, quindi frutto di un lavoro certosino svolto dall'amministrazione nell'ottica sempre dello sviluppo dell'area. Grazie. 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 Grazie.